Good for Good è un libro per una cucina salutare per chi ha avuto un problema e anche per chi vuol cambiare il suo stile di alimentazione. La possibilità di poter cambiare seguendo le stagioni, seguendo i cicli della vita, ti dà la possibilità di poter modificare con questo tipo di ricette l'approccio al cibo. Imparare a mangiare bene è importante sia per prevenire le malattie sia per avere un decorso migliore delle malattie croniche che colpiscono oggi il nostro mondo, quindi le malattie cardiovascolari, le malattie endocrine e anche i tumori. Nell'ambito dello stile di vita corretto il regime alimentare ha molta importanza, adottare quindi un'alimentazione corretta e che sia anche gradevole, perché spesso le diete falliscono perché ognuno di noi pensa che adottare un regime alimentare corretto e salutare sia triste, piatti brutti, poca roba da mangiare e poco buona. Invece con questo libro si dimostra che una corretta alimentazione può essere qualcosa di fantasioso, colorato e molto buono al palato. Questo libro ce l'hanno commissionato gli istituti gemelli di Roma, Iris Roma, a sostegno dei malati oncologici femminili, i tumori oncologici femminili. Sono stato orgoglioso di aver partecipato a questo tipo di iniziativa, mi ha dato la possibilità di poter esprimere il mio modo di cucinare, una cucina molto semplice e leggera e di cui queste persone hanno bisogno, hanno bisogno di essere sostenute con una cucina con gusto. Iris Roma ha voluto fare questo tipo di ricettario e video da poter offrire e regalare alle persone che seguono questo programma di riobbligazione.